Vi volevo invitare alla sessione scientifica dal titolo Spotlight on Tofacitinib in un cervicolitis che si terrà il giorno 29 novembre 2020 alle ore 18 nell'ambito del congresso nazionale iGBT. In questa sessione parleremo appunto di Tofacitinib che finalmente è arrivato a nostra disposizione e quindi ammunterà a implementare la nostra disposizione per il trattamento dell'apertocciolosa moderato grave. Ne parleremo con tre grandi esperti, in particolare con il professor Fantini che ci parlerà di meccanismo d'azione, col professor Silvio Danese che ci parlerà dell'efficacia di questo farmaco e col professor Ambrogio Orlando che ci parlerà di safety. Quindi vi ricordo questo appuntamento 29 novembre ore 18 durante il meeting iGBT nazionale. Grazie. 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 Grazie.